Quella lama figa Il che è una cosa grave Però c'è sto scudo che è un cittissimo E c'ho anche in alto gli scudi E oltre che in alto gli scudi posso usare anche Se levo questo C'ho quell'altra spell fighissima Questo final stand me Quell'altra spell fighissima è questa Che fa un milione di danni Fa pure blinded Che blinded è sgravato Allora Ah è vero che lui in secondo Andiamo a recuperare i cataveri qua Tutti quanti C'è Alexander che c'ha addosso La testa che è utile Cappuccio dell'occhio di falco Dissipa illusioni Più due intelligenza Lo diamo a bestia Vediamo che ci fa Questa la diamo a bestia pure Questi li prendiamo noi Qualcosina ce l'avevo addosso Leggi e chiudi Che questo ti dà qualche Runa della roccia Capita qua Ok ok Abbiamo finito qui Dobbiamo tornare da quei vendor di merda Mi sa che erano loro Che gli avevo venduto le Le cose Che avevo pulito l'inventario Speriamo Cacchio Perché se no sto nella merdissima Ah ma c'è anche lei Questa babba di minchia Oh aspetta aspetta Io non ho parlato con Alexander Vabbè aspetta Parliamo con la tigre Facciamo tutto il giro Poi parliamo con Alexander Sarà il primo amore Perché ce l'ha tanto con me Questa imbecille di una tigre È stata lei Brutta Scema Pagliaccia Ma vattinne vai Sei stata tu ad attaccarmi Brutta Scema Pagliaccia Le tigre Facciamo secche tutte Adesso Vattinne Ecco Alexander Sir Lora Si è riacchiappato Completamente Continua pure Il mio interesse per Alexander Si è spento molto tempo fa Amico mio E confronta E confronta Il spirito di Alexander Perché 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 Il giro Mi ha trovato Per il Nannomen Perché 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 Mi Lì Mi Lì Il spirito di Alexander Gaze Serenamente In Iffan Il male minore Ma Mi sa così Prendo congeto Lascio fare Iffan Vediamo cosa dice Regate al consiglio dei sette Decidi cosa fare L'ultimo L'uomo palescente Fai rapporto all'uomo palescente Alexander è morto Non dovrebbero dimenticare Di prendere La sua Non dovremmo dimenticare Di prendere la sua testa Ma l'uomo palescente No prendiamo Lo specchio Prima voglio andare a prendere Quell'altra spada Possente Stavano qua i ventorini Che pirla Cavolo Che non Speriamo di avere Abbastanza soldi Che altro No era quell'altro Che gli avevo dato la cosa Prendo congeto No No Non gliel'avevo data Allora dove cacchio stava Scusa L'ho venduta a qualcun altro Allora Può darsi Sono un babbo di minchia Porco Dove l'ho messa Non era questa Era Era la spada De sto pipolo Super cittino Lì Capiremo Valla Trova Annacci a me Andiamo sulla nave Adesso Vediamo un attimo Che fare Allora Per il nano C'era questo E qui Beh Direi che gliela Mettiamo subito La ghiacciante Credo che quella Che ha il nano Adesso Sia meglio Per il più 6 Ad iniziativa Decisamente Torniamo Sulla nave C'è un save game Vediamo un po' Perché ho La lady vendetta Ho smanacciato un po' Con i vendor Questi qua C'era qualcuno Che mi voleva parlare O gli fan Forse dopo Vediamo un po' Magari qua Questi Perché avevo trafficato Con questi Facendo Eccola qua La spada Della tempesta Vabbè Un K8 Abbastanza tranquilla Come cosa Termina E io vorrebbi Usare questa E mo proviamo A farlo Spada scudo Boy Spada scudo Boy Polywrath Voglio provarlo Sto Polywrath Perché deve fare Veramente un botto Di danni Torniamo Al tempio Di Tyrnambocchio E Usiamo Il piattino Che non ci caga Scusa Dice che dobbiamo Avvertire Il coso Lì Però Vabbè Usciamo da qua Vediamo un po' Dove Oh sì Di qua c'è Dell'esplorazione C'è anche un faccione Esplorazione Perché lo dice No? Dice Fai rapporto All'uomo palescente Ci abbiamo La testa Di coso Vabbè Vabbè Poco male Tanto l'utare Abbiamo l'utato tutto Ci siamo Mi piacerebbe Avere un PG Che è quello Che diciamo C'ha le robe Da vendere Io direi Che il nano Va benissimo Aura venenosa Purifica Ferite di massa Aura evasiva Ah Questi Sono da dare A bestia Questo Bestia Queste si tengono Questo si tiene tutto Ci siamo Ma poi l'albero madre Quella roba lì Chissà dove che sta Ma scusa un po' Ok questo l'abbiamo visto tutto Diciamo questa zona qui Tutta quanta Compreso Il tempio orchesco Questa parte qui L'abbiamo proprio vista Tutta 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 Adesso bisogna vedere qua Il santuario lunare Non ho salvato io Quindi succedono Le cose qua Facciamo nulla Alla C'è questo Ah uno dei cosi Ok Succedono le cose qua Adesso è top Con questo Perfetto Una volta Che è molto buono Cosa vogliono dire Questi cosi E se lo ripigio Quindi è o il sole O la freccina Facciamo tutti soli Vediamo un po' Che succede Però io credo Che questo sia In base agli altari In realtà Perché ognuno C'ha una faccia Diversa Di questi Infatti Questo è quello Elfico Questo è Quell'orchesco Questo è Quello Dell'imp Credo che Dipenda un po' Vediamo un po' Quello elfico Che c'è venuto Sopra Me lo fa vedere Ecco Vedi C'è il freccino Su quello Elfico Sì 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 Perfetto Perfetto Il Elfico Vuole il Freccino Poi sono Sette Questi Tra l'altro Qui c'è un Pietrone Bello Da raccogliere Vatti a ricordare Dove Minchia Stavano Gli altri Ce n'era Uno Da questa Parte No Qua c'era Quel Cosa Che non Sapevo Come si usava Questo era Quello Dell'Info Per caso Mi sa Che questo E' Quello Dell'Info Che è Anche da Riparare Questo Tra le Varie cose Il Che è Tutto Dire Allora Mi ricordo Che c'era Che c'era Quello Quello Orchesco C'aveva La Lucetta E Quell'altro Pure Ma Quell'altro Che stava Di qua Non ricordo Se fosse Francesco Giordano Cos'altro Stava qua Da queste Parti Eccolo Però Non Non Mi si Vede Qua Ci devo Venire a Piedi Porco Due E' Umanesco Questo Questo Qua Mi sa Che c'era Il sole Su questo Qua Umanesco Vabbè Dobbiamo Fare un po' Di giretti E vedere Un po' La situazione Bella Sbatta Dai Dai Solo sono Ok Si c'ha Il sole Questo Quello Di Ralik Ce l'hanno Con noi Questi Morti Mavartine Allora Quindi Questo Credo Quello Di Ralik Dovrebbe Essere Quello Umano Bisogna Capire Quello Goblinesco Quello Orchesco Pure Mi ricordo Che era Così Questo Qua Che Dovrebbe Essere In teoria L'altare Del Goblin Come facciamo A ripararlo Questa è la parte Curiosa Ah però c'è lui Possiamo parlare con lui Il rametascabile Degli imp Ho sentito parlare di loro Di voi Ma dubitavo Della vostra Esistenza Correre Come si chiama Correre Come un orologio Trova la gemma Degli imp La gemma Di cui abbiamo Bisogno Per entrare Nel tempio Degli imp E' stata presa Dall'anello Nero Allora Mi sa Che quella Gemma Che stava Da quella Parte Dove cacchio Stava C'era quella Gemma enorme Che stava qua Da qualche parte Ma non mi ricordo Qua c'è il tempio Di Ralik Cacchio santo Sta mappa è enorme Sto cominciando Ad impararla Eccola qua Qui c'è una gemma Gigante Secondo me è questa Troppo grossa Per non essere Una cosa importante E ci sarà magari Anche da combattere Mi sarei potuto Teletrasportare Qui Ad un po' Solunare Così magari Facciamo veloce Infatti ci stanno Due animaletti Snout e stilletto Ah ah Non lascio un culo Così le faccio No Vabbè Ho capito Devi fare Un centino Qual'è quello Più tosto Dei due Sono entrambi Esattamente Uguali Un bel crocchino Un bel congelamentino Così questo passa Al turno Facile Facile Minchia Che crocchino Che tira Comunque Anche con la Con la spada Una mano Vediamo un po' Di ragione Bam L'ho pure Accecato Facile Facile Che te dico Facile Questo Mo' è Accecatissimo Si ha messo Supermark Provocation Te l'ha Congelato Tutti Che fa Provocation Emo Emo Va giù Questo Si è convenuto Provocation Rimuove l'invisibilità Le illusioni Create dall'uomo Palescente Ah Cioè questo elmo Qui mi fa rimuovere Le cose dell'uomo Palescente Ok Buono come il pane Fantastico Fantastico Ok Ultima scoccia Ultima di guadagno E a case E level Level L'abbiamo trovata Correre come un orologio Raccogli la gemma Ma i guardi dell'anello nero Non saranno più un problema Per noi Grande rumbino Facile Facile E' bellissima St'isola Comunque si E' fantastica C'è un botto Di gameplay Su quest'isola Le stelle Si agitano Hai letto di queste gemme Quindi sai che questo indovinello Non ha senso Di alla gemma di arrivare al punto Quindi minaccia di frantumarla Contro una roccia Ci stanno trasportando Nel mondo dei cosi Nooo Dai siamo a Implandia Bellissimo In un solo gemme Incredibile Fantastico Beh non è enorme Però cavolo 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 Mettiamo Costituzione Forza Dai I punti ormai Li mettiamo tutti A doppia arma Praticamente Che uomo d'arma Aumenta i danni Doppia arma Aumenta i danni E la schivata Eh Che Ne sa Però adesso Pratico Adesso sto usando Ad una mano Quindi mi conviene Aumentare uomo d'arma Una mano che aumenta Precisione Precisione Utilizzando armi Ad una mano Ammazza e bacchetto E uno scudo Con la mano Secondaria libera E qua Questo andrebbe Respeccata Questa faccenda Qua Vabbè Per ora Facciamo così Poi ci pensiamo Coste e forza Lui vabbè Ha due mani L'uomo delle due mani Ha Lei Intelligenza Bomba Full glass Cannone Cacciatore Che gli aumenta Distanza Ce l'ho A 10 Quindi Quando attacchi Una posizione Sopra le vada E vai col cacciatore Mi conviene mettere i punti A Ah no Mettiamolo a polimorfista Così possiamo sbloccare Qualcosina nuovo Di polimorfista Vediamo Magari c'è qualcosa Di più Stuzzichevole Ok Salva Salvaima Salvaima Siamo Mi sa Fermo a rallentare Non c'è modo Di curarlo Questo Qua puoi cliccare Le cose Ma Esploriamo Nel regno Tascabile C'era un tempio Abbandonato Qui Il tempio Il tempo Il tempo Scorreva Notevolmente Più lento Ecco perché Siamo rallentati Perché c'è Perché a meno Di teletrasporto Antico liquido Dell'avventuriero Scusa Ma sti libri Qua Sono buoni Questi danno Nuove ricettine Bombe Roba varia Figo Figo Che poi va bene In realtà Uno le potrebbe L'amore non è la risposta La ricerca della risposta Continua Ok Ma su cosa Me l'ha letto Questo Devo aprire Questo Cosa Ah Bisogna Aprire questi Affari No Questo funziona Questo è bloccato Andiamo Ah è semplicemente Questo La specie di alambicco Qua Che si Lo clicchi La gallina Non è la risposta Ok Identifica No Devo dare a bestia Questa Così la vende Bestia Bestia Ma se io Prendo e sbatto Oh Vedi Me le sbatte Pure direttamente Al posto Loro Figo Forse si è aperto Questo No Dunque Dunque Che giro Debo fare Adesso Madonna Che sbatta Dove No Neanche qui C'era la risposta Devo riuscire A aprire quelle porte Lo so che posso saltare A destra e a sinistra Forse smanacciando Riesco pure Però Voglio vedere se ci riesco A farlo normalmente Senza dover fare saltini E cittini Vari L'amore Non è la risposta E che ci sono Questi cosi Qui Uno Due Tre Quattro Però Magari Così Sapendo Legge Mi scrive Magari Posizioniamo Tutti quanti In zone Diverse E però Lui ci ha dato Una pergamena Di teletrasporto Apposita Ma in realtà Io non credo Che ci sia Bisogno Basta Mettere Lui Qua No Lui ci arriva Mezza Soluzione L'abbiamo trovata Ok Lei Vou farlo Ok Intrighy Tirato a caso Non pensate Che uovo Ci ha preso Subito Tirato Proprio a caso Qui c'è un imp Morto Manuale Del Protocollo Di emergenza In caso di fusione Interdimensionale Si prega di disattivare Il nucleo Per garantire La continuità Dell'esistenza Inventiamo Tutti coloro Che possono Entrare In contatto Con il nucleo Ad esercitare Cautela Poiché Molti Si affidano All'esistenza Per esistere Per le visioni Più intime Della fine Dell'esistenza Suggeriamo Di seguire Le condutture Ok Il nucleo Del regno Tascabile Pericolosamente Instabile Per stare al sicuro Dobbiamo seguire Le tubazioni C'è una piramidella Lì Questo l'avevamo Già letto No? Credo Ti incuriosiscono Gli automi Sì 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 Questo l'avevamo Non c'è letto Però lo riprendiamo Parliamo con lui pure Questo è morto Morteroni Morteroni pure Quell'altro Cerco quello che sapeva Della macchina Nelle sue memorie Che c'è Cerchiamo nelle memorie dell'imp la causa della sua morte Ah ok quindi i warg hanno fatto crepare la gente Hanno fatto un casino giocando in maniera cruenta Scappi verso l'unico posto dove sai che sarà al sicuro Dalla nebbia mortale e dal fuoco lavico Ma prima che tu riesca a pianificare la tua corsa verso il nucleo Dove applicherai un sistema di sicurezza d'emergenza Qualcosa cade e ti colpisce Quindi è morto e gli è arrivata una roba in testa Disattiva il nucleo instabile Il tempo era vuoto e il nucleo è malfunzionante E ha ucciso tutti L'ordine non è la risposta Ok ok vediamo che dice quest'altro Qua c'è un coso che si pigia secondo me fa uscire le fiamme da qua C'è una piramidella Una ghianda non è la risposta Ma potrebbe esserci vicina Ma potrebbe esserci vicina di una gallina almeno Ok Va benissimo la ghianda Io l'avevo detto Che mi significava le fiamme Questo coso Dai ragazzi Muove Vabbè che sbatti No no non fate che tornate indietro Sennò ripiggiate tutto Di nuovo Statevi fermissimi Allora Qui c'è il veneno Questo è chiuso Andiamo di qua Questo è aperto Qua pure è aperto Oh boy Ma che c'è frega Ma che c'è in porta Se lo sti arvino Ci ha messo l'acqua Però sbisciatevi ragazzi E muovetevi perché sennò morite tutti come I bagliacci di ghiaccio Allora cosa c'abbiamo qua Piccolo libero dei grandi botti No questo non dà cose Piccolo libero delle grandi esplosioni Ma l'avevamo già letto questo Si 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 che dice Come fare le bombe Però Non ti danno Il protocollo sicurezza Sta qua Presa bene Protocollo scarico d'emergenza Facile Giusto? No 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 Era questo lo scarico d'emergenza Non è una cosa Non è una cosa positiva Ci ha ammazzato tutti malissimo Cacchio È andata come è andata Guarda il caricamento Come è veloce Ti voglia Quando deve caricare tre cose È velocissimo Ma quindi in quel posto Lì non c'è niente